si aprono le gabbie partiti cavalli della prima corsa con lento a partire arci gli altri colgono bene o male una buona partenza tocca a te la più veloce anche il cicchito ha partito bene in terza posizione con la giuba verde c'è lady macbeth accompagnata in quarta sweet bucchè la seconda linea è completata da airblade poi frughetto con la giuba nera e arancio con all'interno anche via toledo insieme appunto ad arci si tira via con una certa sollecitudine sempre in vantaggio tocca a te al cui esterno si presenta subito il cicchito ancora più all'esterno c'è la giuba amaranto di sweet bucchè poi la seconda linea è completata anche da frughetto e airblade siamo a 200 al traguardo con sweet bucchè in questo momento il leggero vantaggio prova il cicchito ma soprattutto dall'esterno prova frughetto che con uno spunto si porta in evidenza e soprattutto impressiona subito al debutto vincendo bene nei confronti di sweet bucchè e poi per il terzo posto dovrebbe essere tocca a te e ancora il cicchito c'era possibilità che potesse vincere un debuttante così è stato lo ha fatto frughetto cabal bay figlio di cabal bay stato per 27 mila euro al bridge up di maggio salvatore basile in sella per il training di luciano gabriele bietolini colori di fabio antonini vice numero 4 rivediamo il tutto ma soprattutto per riapprezzare lo spunto decisivo dopo una prima parte di corsa dove sembrava potesse andare un po' in difficoltà in realtà quando è ingranato la marcia si è disteso con ampie folate molto bene interessante il debutto di questo cavallo frughetto numero 4 nei confronti del 7 sweet bucchè e per il terzo appunto il numero 8 tocca a te da capanelle per la prima è tutto